Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Mindtest Mod Spotlight Siamo nell'episodio numero 3, 4, 5, no dovrebbe essere l'episodio numero 4 E oggi ci troviamo a presentare la mod Throwing Enhanced Cioè, tiro con l'arco, migliorato, di Echoes91, scritto Echoes91 così Tipo Eki, esatto Questa mod è un fork della mod di Pilsadam che utilizzo per il mod di Mindtest It Che a sua volta era un miglioramento della mod DJ già ancora più vecchia, diciamo Ad ora è la mod per il tiro con l'arco migliore che c'è su Mindtest Ed è stata aggiunta relativamente da poco Ci sono 4 tipi di arco che sono il Wooden Bow, il Long Bow, il Composite Bow e il Steel Bow Che vengono craftati in modo differente La base è quella di mettere delle stringhe e delle componenti dall'altro lato Adesso vi faccio vedere Le mod non ha bisogno di alcuna dipendenza Dato che, appunto, tutte queste mod che utilizza sono nella versione base Quindi, nessun bisogno Questo qua è il Wooden Bow Se invece andiamo con il legno Dovrebbe... no, non con questo Dovrebbero essere le Wooden Planks Con le Wooden Planks No, non con questo Lo troviamo, eh, lo troviamo Non vi preoccupate che lo troviamo No, forse... Ah, è questo Wooden Planks Era con le Wooden Planks o era con il legno? Perché ho sbagliato anche il legno No, probabilmente con il legno O forse era con le String Dove sono andate le String? Non era neanche così Eccolo qua, perfetto Il Long Bow Se invece qua mettiamo un pezzo di ferro Otteniamo il Composite Bow Che è l'arco composito La fin fine Questo è Steel Il Composito Mentre invece se mettiamo tre pezzi di ferro Otteniamo Lo Steel Bow Esatto, perfetto Hanno delle caratteristiche diverse Che vi andrò a spiegare Poi ci sono vari tipi di frecce Che utilizziamo Allora Innanzitutto il Wooden Bow Ha Una Gittata molto Corta No, cosa sto facendo? Time 6000 Ha una gittata abbastanza corta Ma ha un tempo di caricamento Molto rapido Quindi per incoccare una seconda freccia L'arco lungo Il Long Bow È forte Ma è più lento a caricare L'arco composito È Diciamo un miglioramento Del lungo Perché fa ancora più Più danni L'arco di ferro Colpo più utente di tutti Ma è più lento Per utilizzarle In pratica Serve Avere delle frecce Nell'inventario Avere Sia l'arco Che le frecce Nella hotbar Diciamo Quindi nelle cose selezionabili Rapidamente Dell'inventario E basta avere La freccia accanto Qua ci sono tre tipi di frecce Tre categorie di frecce Ci sono le frecce Che fanno danno Le frecce di utilità E le frecce Diciamo Più pericolose Ecco Le frecce Che fanno danno Sono Quella di stone Quella di steel Quella di diamond Obsidian E shell Le prime Sono abbastanza facili Questa Si fa con due stick Uno, due Stone Uno, due Ferro Uno, due Diamante Uno, due Ossidiana L'altra invece Si fa con uno Gunpowder E Bronzo Le prime Quattro Fanno danno In modo crescente Nel senso che Questa fa Un po' di danno Questa fa più danno Questa fa ancora più danno E questa fa Un danno maggiore Però queste due Sono anche abbastanza costose Ah Per ogni crafting Che si fa Così Vengono date 16 frecce Tranne per alcuni casi Che sono queste qua Quelle di utilità Che sono più costose Ma Questo si trova tutto Sul sito L'ashill arrow Invece È la più particolare Perché oltre a fare danno Come una freccia Di ferro Fa anche una piccola Esplosione Circostante Diciamo Io Ho Preparato Questo Diciamo Specie di Zona di tiro In cui salirò Su questa pedana E Mirerò Appunto Al Al centro Del blocco Di mese Laggiù in fondo Per far vedere A quanto arriva Come distanza L'arco Utilizzando Varie frecce Vari archi Appunto Per vedere Qual è la distanza Che raggiungono Questa è una freccia Di pietra Con l'arco Normale Di legno Le scritte Che avete visto Sulla destra Erano le scritte Che indicavano Quando l'arco Era pronto A ricaricare Quindi se noi Spammiamo Vedete che Ha bisogno Di un tot Per ricaricare Le frecce Talvolta Possiamo recuperarle Talvolta Invece Ci droppa Uno stick O una parte Diciamo Della freccia Quindi in questo caso Ne abbiamo recuperate Quattro E abbiamo perso Ne abbiamo persa Una Adesso andiamo Invece con la freccia Di ferro Sempre là E con lo stesso Arco Vediamo che Va più o meno La stessa distanza Se invece Andiamo con la freccia Di diamante Cadono sempre Tutte Esattamente Là Freccia Di ossidiana Qua non ho Mod Quindi Non ho Mob Quindi non si può Notare E questo come potrete Vedere Qua non si sente Rumore di esplosione O qualcosa Ma vedrete Un piccolo Effetto Delle piccole Particelle Vedete Vedete come se fosse Una specie di Non so Sembrano quasi Delle mosche Che vanno via Ah e di questa Non ho recuperato Niente Quando Quando cade È l'unica Diciamo che Da cui non ho Recuperato Nulla A questo punto Invece io Proverai A vedere Con i vari Archi Che cosa Cambia Con il Stesso Tipo Di freccia Potevo Lasciare Invece Un attimo Per vedere Allora Questo qua È quello Tradizionale Quello Meno Prestante Diciamo Quello In legno Normale Andiamo Con quello Di Quello L'arco 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 Come potete Vedere È caduto Su quell'altro Punto Più avanti Questo È anche caduto L'arma Leggermente Più avanti Mi sembra O forse Lo stesso Punto E Quello Di Ferro Invece Cade Un po' Più avanti Visto Però ci mette Abbastanza A caricare Come potete Vedere Rispetto Agli altri Quindi Uno Due Tre E Quattro Facciamo Una prova Rapida Adesso Di quello Che sono Le altre Frecce Le altre Frecce Sono più Particolari E hanno Degli Utilizzi Che possono Essere Più disparati Molte Di queste Sono prese Dalla Mod Diciamo Che Aveva Già Fatto Pilzada Tipo Questa È La Build Arrow Si Utilizza Appunto Tenendola Ah Nella Outbar Devono Essere Arco Poi Appena A destra La freccia E poi In questo Caso Appena A destra Un materiale Da costruzione Se noi Facciamo In questo Arco La build Arrow Posizionerà Il blocco Da costruzione Diciamo Dove cadrà La freccia Come potete Vedere Ha piazzato Un blocco Di dirt Questo tipo Di freccia Viene fatta Con Due stick E una Pala di ferro E la maggior Parte delle volte Ridà la Pala di ferro La ritrovate Dove è stato Piazzato Il blocco Infatti Questo giro Ce l'ha dato Tutte e tre Le pale di ferro E' abbastanza Probabile Che lo otteniate Il Il Blocco Successivo Diciamo No La freccia Successiva E Quella che scava Invece La freccia Che scava E Questa Viene fatta Con una Pickaxe Di ferro E La droppa Sempre Ma un pochettino Più raramente Come potete Vedere Adesso Ha scavato Questi pezzi Di Di terra E qua No Qua ci ha dato Solo lo stick Come potete Vedere Quindi talvolta Ce lo dà Talvolta No Ed è abbastanza Dispendioso Diciamo Sono un pochettino Più estetiche Queste cose qua Perché Non so Quanto uno Possa Aver bisogno Di piazzare Delle cose Con un arco In questo modo Questa qua Invece serve Per piazzare Una torcia Dove cade Adesso La non l'ha Non l'ha piazzata Forse non è caduta Abbastanza bene Ah no Le sta piazzando Ma noi non le vedevamo Perché eravamo dritti Uno Due Tre Come potete vedere Ha piazzato Delle torce Il fatto è che Le piazza Praticamente Come se fossero in arco Non è che le piazza Sul basamento E quindi Dà un effetto Un po' strano Diciamo Ultima Questa qua Secondo me È l'unica utile Delle utili Ma costa Un sacco Questa si fa Con la Con una torcia No Con Con un pezzo Di coal Si fa Con un pezzo Di coal E rimane Poi quella Del Teletrasporto Che alla fin fine Come potrete vedere È praticamente Come un ender pearl In minecraft Perché Boom E questa Viene fatta Con un cristallo Di Con un frammento Di cristallo Di mese E E questo Non lo ridà mai Si Si perde Va Perso Per sempre Vediamo Vediamo dove cadiamo Adesso Beh Ha un discreto Punto di lancio Diciamo Può essere utile Come diciamo L'ender pearl Per risalire da parti Un pochettino Complicate Eccetera Eccetera Il casino Che costa davvero 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 Tanto Adesso andiamo Sulle Più pericolose No Questa è la TNT Direi di tenereci Per ultimo La prima è quella Infiammabile Diciamo La fire arrow Che viene fatta Con un Schielo di lava E come potete vedere Appicca il fuoco Alla zona circostante Dove atterra Ultima Freccia E Quella Più pericolosa Che Quella di TNT Che viene fatta Con uno stick Una TNT E Del bronzo Tra l'altro La TNT Mi pare che non ci sia Se non Givandosela E quindi Non può essere utilizzata Nei Nei server Per grifare Diciamo Questo tipo di freccia Anche perché Come potrete vedere Ha Una potenza Molto superiore Per esempio Rispetto Al blocco esplosivo Che abbiamo visto La palla di cannone Esplosiva Che abbiamo visto La scorsa settimana Ma vedremo subitissimo Tra l'altro fa anche Un bel Un bel suono Di esplosione E Lancia lontano I blocchi Che ha tolto Come potete vedere Li ha raccolti qua Erano 34 blocchi E E qua Ha lanciato La cobblestone Che ha anche tolto Che erano 4 blocchi Qua ha tolto Delle piantine Quindi anche Anche quello E non vanno persi I blocchi Diciamo che Distrugge Però fa un danno Abbastanza considerevole Diciamo Per quello Che Che è E infatti È un È una discreta Tor È una discreta Freccia esplosiva Non so cosa possa servire Una roba del genere Ma Boh Alla fin fine È come lanciare Una bomba a distanza In un mondo Single player Non so cosa possa servire Attualmente Però Boh Il sole sta calando E per questa mod È tutto Io vi invito A lasciare un mi piace Se per caso Il video fosse piaciuto Iscrivetevi Se per caso Non l'aveste già fatto Mi trovate su facebook Il link in descrizione Io vi saluto E Se per caso Avete qualche altra mod Da consigliarmi Lasciatela scritta In descrizione Ciao Ciao a tutti